L'Italia è un modello di forza, resistenza e coraggio. Grazie a questo progetto abbiamo scoperto tantissime nuove informazioni. Ogni persona può conoscere le basi fondamentali della storia del nostro paese. Ho potuto ampliare le mie conoscenze. Mi ha colpito molto la storia di Francesca Morvillo. Che ha lottato comunque al fianco di suo marito contro la mafia. Per la libertà. Ma anche contro tutte le ingiustizie. Abbiamo diviso questo progetto in più fasi. Abbiamo deciso tutti insieme di iniziare a lavorare, dividendoci in gruppi. E ogni gruppo ha ricercato un evento che fosse veramente basilare per la nostra nazione. Informazioni sulle Paro Olimpiadi. Sullo sport e sulla sua inclusività. Sulla Chiesa Cattolica. La questione del Concilio Vaticano II. E informazioni su un attore italiano molto importante che è Pasolini. Successivamente ci siamo dedicati alla parte teorica, quindi abbiamo fatto delle ricerche. E poi infine ci siamo dedicati ai lavori creativi, producendo dei podcast, dei video e delle lettere di scrittura creativa. Ogni persona può conoscere, come abbiamo fatto anche noi, la storia del nostro paese.